Bella a tutti quanti ragazzoli e ben ritrovati in questo nuovo video diverso dal solito perché oggi parleremo di come fare qualche soldino appunto nel nostro Paypal, sul Play Store, su buoni Amazon eccetera 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 con un'applicazione davvero fantastica che fa guadagnare abbastanza in breve periodo diciamo, tra molte virgolette Prima di cominciare però ragazzoli se vi piacciono video di questo genere appunto che vi servono magari per riuscire a comprarvi il pass tra molte virgolette gratuitamente, in realtà è lavorando per testare giochi e altre cose lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e ovviamente commentate quelle cose che volete vedere nei prossimi video Allora detto questo direi di cominciare subito a parlare di questa applicazione L'applicazione in questione si chiama Money Cash, fondamentalmente soldi Ok, aprendola, facendo il nostro account e tutto quanto, inserendo i nostri dati appunto i nostri dati quelli giusto per ricevere i pagamenti e le cose base diciamo ci verrà proposto un gioco Adesso per esempio io ho già un gioco che sto giocando che si chiama Tile Sunrise e come potete vedere appunto aprendo il gioco 10 monete, facendo 9 minuti 50 monete facendo 1000 livelli 17,50 euro che non è per niente male Correndo ci sono anche dei premi da 500 euro che ovviamente sono difficilissimi da raggiungere ci vuole molto tempo e tutto quanto, però praticamente vi pagano per giocare a dei videogiochi Voi aprite uno, cominciate a giocare, questo qua è un gioco abbastanza bruttino, non è che mi piace molto però più giocate più vi verranno proposti giochi come potete vedere appunto 467 monete al minuto sono abbastanza considerando che ci basterà arrivare a 20.000 monete per ricevere i nostri primi 5 euro non è per niente male appunto poi verranno aggiunti giochi mano a mano che continuerete a scaricarli nel senso io adesso ho soltanto Tile Sunrise su questo telefono perché uso l'altro telefono per fare questa cosa appunto sono già arrivato al traguardo dei 5 euro l'ho anche riscattato, davvero molto facile come potete vedere basterà andare qua appunto sulla sezione pagamento adesso ve la mostro un pochettino anche meglio ok, tirando in su potete vedere che ci sono pagamento i miei giochi e nuovi giochi i nuovi giochi ovviamente troveremo giochi come il Domino Dreams eccetera eccetera nei nostri giochi troviamo il nostro gioco e i nostri traguardi che stiamo raggiungendo nella sezione pagamento per Android ok, ci sarà soltanto la modalità Amazon e Paypal quindi potremo ricevere appunto i nostri soldini soltanto tramite buoni Amazon o su una carta Paypal cioè su una carta online Paypal che comunque non è male, invece per gli utenti iPhone si potrà anche direttamente scaricare direttamente sullo store ma in realtà anche su alcuni dispositivi Android ma i miei telefoni no tipo il telefono di mia madre invece lo permette può anche andare a comprare sul Play Store per esempio, dipende un po' dal modello, dalle cose eccetera eccetera non è per niente male come applicazione appunto sull'altro telefono ho già riscattato 5 euro anche mia madre ha riscattato anche 5 euro e siamo già al traguardo per andare sui 10 poi ovviamente come potete vedere, che vi facevo vedere prima se giocate tanto a un gioco ovviamente vi daranno delle sfide che permetteranno di vincere anche premi molto golosi come per esempio appunto i 17,50 euro o i 500 euro che comunque sì, bisognerà giocarci praticamente più o meno non voglio prendervi in giro due o tre mesi se non di più, cioè due mesi già soltanto per fare il primo da 17,50 euro poi quello da 500 euro ovviamente bisogna finire praticamente 100 volte tutte le daily quindi serviranno ovviamente 4 mesi però comunque ragazzoli sono sempre 500 euro sono sempre in totale magari completando tutti gli obiettivi e tutto quanto considerando che ho già preso 5 euro più o meno riuscirete a fare sui 280, 590 euro soltanto con un gioco in 4 mesi e per carità non è tanto però capite bene che siete minorenni, non avete un lavoro eccetera eccetera giocate anche per passione questa qui comunque è un'ottima applicazione che vi fa guadagnare almeno e vi fa provare giochi nuovi quindi io sinceramente la consiglio moltissimo provatela fatemi sapere come vi va se riuscite a guadagnare qualcosa se riuscite a ritirare i premi e tutto quanto io appunto vi posso dire che il primo step da 5 euro l'ho ritirato praticamente entro 10 giorni non proprio una settimana però 10 giorni e comunque sono andato avanti anche nei premi perché per esempio sul premio da 17,50 euro io su questo gioco qua nell'altro telefono sono già a livello 400 quindi non è che ci si vuole proprio tantissimo se uno gioca ed è capace a giocare ci vuole ben poco diciamo e comunque vi fa fare qualche soldino anche soltanto per esempio giocate a FC Mobile vi comprate il pass gratis grazie a questi altri giochetti non è male non è male non è male fatemi sapere come vi va se volete provarla eccetera eccetera comunque l'applicazione si chiama Money Cash nel caso ve la lascerò anche nel link in descrizione così potete trovarla direttamente facilmente sui vostri dispositivi fatemi sapere come vi va questa nuova avventura se sarà profittevole eccetera 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 e grazie per avermi seguito fino a questo punto del video un ciao ciao sempre e solo qui da DocD a presto